Non è solo un fatto di capi, è un fatto proprio di rappresentare una storia. Abbiamo mescolato quello che è il capi Wurridge con invece delle cose che in realtà hanno una storia anche loro vera. Il fondale dipinto crea un'immagine di un luogo che tutti immagini che continui oltre il fondale. Grazie.